Mentre continua a ritmo serrato l'indagine per la morte di Carlo Gatti, anziano di 90 anni, che domenica mattina è stato trovato senza vita in un lago di sangue all'interno della sua casa nella frazione Canavera di Colliverdi, in oltre po', arriva la notizia di un primo fermo nelle scorse ore. Infatti i carabinieri hanno arrestato Liliana Barone, 45 anni, la badante del pensionato, già interrogata subito dopo i fatti. La donna, spiegano i carabinieri in una nota, è gravemente indiziata per il reato di omicidio. Ex moglie del nipote della vittima, la badante era stata accompagnata in caserma a Voghera già domenica mattina, poco dopo il ritrovamento nella camera da letto del corpo dell'anziano con una ferita alla nuca ed era stata interrogata per diverse ore con la presenza di un avvocato, avvalendosi però della facoltà di non rispondere. Liliana Barone, in stato confusionale, spiegano ancora i militari della compagnia di Voghera, ha riferito ai paramedici di aver provocato la morte di gatti senza però spiegarne modalità e ragioni. Insomma, la conferma dell'omicidio sarebbe arrivata quasi subito anche se il movente, ammesso che ve ne sia uno, resta al momento un mistero. Per questo non è escluso che l'accusa per lei possa essere modificata da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. Sarà l'esito dell'autopsia che dovrebbe tenersi mercoledì a Pavia ad aiutare a far luce sull'accaduto. Se non ci sono infatti dubbi sul fatto che a causare la morte di gatti sia stata una profonda ferita alla testa, non è ancora ben chiaro cosa sia stato a causarla. La badante si trova al momento nella carcere femminile di Vigevano a disposizione della magistratura. I rilievi della scientifica sono continuati per tutta la giornata di domenica. Lunedì mattina, nel piccolo borgo di Canavera, era tornato il solito silenzio, interrotto soltanto dal passaggio dell'auto dei carabinieri che hanno posto i sigili al Civico 7.